guys ben ritrovati in questo nuovo video incredibile intanto vi anticipo che speriamo che l'audio non venga un po disturbato perché da oggi si è cominciata ad alzare un vento importante qui qui da me e quindi speriamo che non non disturbi l'audio di questo video incredibile allora intanto mi raccomando seguitemi sui social su instagram su una perché appena passata twitter eccetera eccetera trovate tutto in descrizione allegri volete che io parli di allegri volete che parlare io parli di allegri sul calciomercato ragazzi come al solito è tutto fermo io ieri su instagram vi ho lanciato una provocazione provocazione su rudiger perché il a quanto pare il celsi è intenzionato a vendere l'ex roma perché comunque ha comprato sar ha comprato tiago silva quindi sono un po tantini lì dietro e rudiger è stato proposito a un sacco di squadre a quanto pare anche la roma quindi non sappiamo se sia una notizia realistica o meno sta di fatto che secondo me rudiger rudiger in confronto a smalling è un tantino più funzionale e anche meno costoso se vogliamo dire la verità per meno costoso ovviamente non intendo il prezzo del cartellino ma intendo semplicemente il fatto che facendogli più anni di contratto puoi ammortizzarlo meglio a differenza di smalling che devi necessariamente fargli meno anni di contratto vista l'età e rudiger un domani è futuribilmente vendibile a differenza di smalling ma questo è un altro dettaglio si è parlato di mayoral di marzo di marzo ieri ha lanciato sta notizia di mayoral che io spero non sia vera perché a sto punto mi prendo kalinic e mayoral ragazzi è il classico canterano scarso che va in giro per tutte le per tutte le squadre in prestito eccetera eccetera a me non piace poi viene fa il fenomeno un altro discorso però non c'è niente di vero per il momento allegri posso darvi per certo che la notizia di allegri che circola di un contatto di un preaccordo eccetera eccetera è vera è vera la roma ha contattato ha contattato allegri personalmente l'ha fatto proprio friedkin con watts e c'è stato già un principio di accordo per principio di accordo ragazzi cosa si intende si parlano già di di cifre 7 e mezzo 8 stagione che cosa si intende per principio di accordo che è stato allertato è stato allertato poi vi dirò la mia di sensazione su questa storia nel senso che qualora la roma decidesse di disonerare fonseca allegri ciao è già pronto gli è già stato fatto un tra virgolette un pre contratto si sono già messi d'accordo ma non adesso quanto par già da già da una decina di giorni poi ragazzi nel momento in cui vedrete che de ciglio verrà accostato alla roma in maniera proprio forte vuol dire che c'è allegri dietro perché dove c'è allegri c'è de ciglio e viceversa non sono stati fatti passi avanti eccetera eccetera molti dicono che dipende dalla partita di domenica io escluderei anche questo cioè se la roma perde dovesse perdere domenica con la juve secondo me fonseca non andrà via io ho una mia idea nel senso che secondo me a ottobre fonseca verrà esonerato io una sensazione mia ragazzi voi come sapete io parlo sempre a sensazione è una sensazione mia perché ad ottobre ci sarà la pausa per le nazionali tra questa settimana e la prossima proprio a livello dirigenziale ci saranno dei dei clamorosi ribaltoni perché questo è stato anche confermato da solano che ha degli agganci con la dirigenza con con i fridti che praticamente con qualche collaboratore dei fridkin e potrebbero esserci dei ribaltoni clamorosi non in questa settimana forse la prossima in queste due settimane e secondo me anche nell'area tecnica avremo dei ribaltoni secondo me al di là dei risultati della roma tranne che se da qui alla fine da qui alla pausa la roma non non le vince tutte lì potrebbe potrebbe anche rimanere fonseca ma secondo me in un modo nell'altro c'è già la decisione di esonerare fonseca perché ci sono un po di casini un po di casini a trigoria eccetera eccetera io ho saputo anche che addirittura fonseca volevano rinnovare il contratto una volta insediatosi i fridkin a trigoria hanno visto che l'ambiente non è dei migliori poi anche la permanenza di gecko non aiuta la permanenza di fonseca questo è il discorso un po generale però ragazzi io vi posso confermare che fonseca che che allegri è stato contattato e pre pre contattato e hanno trovato un accordo di massima ragazzi perché allegri ha chiesto ha chiesto quei soldi la roma li è andata incontro e l'altra cosa che posso assicurarvi è che se viene allegri non viene paratici secondo me secondo me non si sono lasciati benissimo come non si è lasciato benissimo paratici con sarri però sappiamo che il lavoro è una cosa le le questioni interpersonali sono altre perché anche marotta con conte aveva si erano lasciati malissimo all'epoca della juventus adesso si ritrovano all'inter insieme come come potete ben vedere quindi dalla parte professionale un altro discorso se poi dobbiamo stare a pensare perché abbiamo fatto discussione nel privato eccetera eccetera non si va avanti professionalmente quindi è una mia sensazione poi magari verranno sia paratici che che allegri però in questo momento mi sento di escludere un arrivo di entrambi come non vi do la certezza che fonseca non rimanga anche a ottobre c'è una mia sensazione ragazzi come vedo tra mia sensazione su gecko e alla fine ci ho quasi preso però non mi sento vincitore come lo scorso anno però su su allegri posso dire questo ragazzi vi posso dire questo al momento è tutto fermo ragazzi al momento sul mercato è tutto fermo purtroppo ci siamo affidati a un a un fienga che di mercato e di calcio non capisce una sega perché è il sio del della roma non è in grado di fare mercato non in grado di fare trattative e secondo me il livello più basso l'ha raggiunto con la trattativa under che si è fatto abbindolare dall'eister che ha cambiato la formula da obbligo a diritto c'era l'obbligo a 28 è diventato diritto a 23 così a caso così a caso e quindi questo è poi la anche la la il discorso smolling lo stanno veramente portando avanti malissimo ragazzi io non ho mai visto una trattativa così lunga manco per marezza così lunga c'è la trattativa per smolling ma dura da quando è arrivato l'anno scorso praticamente è veramente ridicola questa cosa qua io per quanto ami smolling ragazzi e lo comprerei all'istante basta basta perché se non riesci a prenderlo noi abbiamo bisogno di un difensore la cosa ridicola che mi fa anche pensare una idea di fonseca e questo fonseca che in ogni conferenza stampa dice smolling arriva smolling arriva mi hanno promesso che arriva arriverà giorni e in realtà non arriva mi fa pensare ragazzi è veramente molto strana come cosa veramente molto strana questo è quanto ragazzi mi raccomando mi piace come sempre io vi dico che queste sono sensazioni mie e sono cose che che ho letto che mi sono anche arrivate devo dirvi la verità queste cose su allegri mi sono arrivate lo dicono tutti ma io ve le sto confermando con alcuni dettagli questo è quanto la sensazione che fonseca vada via ottobre è mia è mia personale ve la sto dicendo però nulla è scontato c'è di faccia dice da dire che comunque sto sto allenatore che non ha il polso per annanaroma perché non ha il carattere che ha un conte un allegri uno con la cazzimma però ci stanno comportato proprio male nei suoi confronti perché non lo stanno accontentando sul mercato e non nella prima volta e gli stanno sparando merda su merda ogni giorno sui giornali e mi dispiace di questo che poi non si è adatto dall'anaroma questo è un altro discorso e questo è quanto ragazzi mi raccomando i social in descrizione ciao aglio forza roma sempre